Bene, ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di Giglio, di Giacomo e di Daniele e andiamo a fare il Bruno Trail. Eccolo lì, siamo alla partenza sopra Arzare dove parte la Zackline e la Flowsnake che vanno giù di là e questa è una nuova discesa, non è da tantissimo che è stata aperta e il Bruno Trail è l'onore di chi l'ha aperta. Bene, andiamo a fare il Bruno Trail. E dopo andiamo a ricongiungerci con la Zackline, il fondo dove c'è il vaio. Ok, un troppetto. La castagna che c'è. Non è un trail difficilissimo, abbastanza guidato, appunto con qualche troppettino ogni tanto, niente di troppo impegnativo. Diciamo che non è la classica discesa da fare a fuoco. Un po' di compressioni. E qui rientriamo. E qua appunto siamo in fondo al vaglitto a fine Zackline. destra, destra! Risoliamo e andiamo a fare la variante Ortighe. Ortighe alta! Risoliamo anche a basso. Sì! 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 Grazie a tutti. E qui siamo arrivati a Orsara, di qua si va verso i manti, di là si va verso il cuoio dell'orso a Pistina. Bene, questo era il Bruno Trail. Ciao ciao!